Uno l'indecisivo, le carte che scendono una a una, le braccia al cielo. Pochi euro investiti e un sogno che diventa realtà. Dal satellite al Lipo 10, quello da un milione di euro garantito. È una bella esperienza, una bella accoglienza. L'emozione è tanta, speriamo di fare bene. Grazie a Titan Battery facciamo questa esperienza. Speriamo che vada bene, l'accoglienza è stata delle migliori. La location parla da sempre, è abbastanza bella anche lei. Speriamo che tutto vada bene e che prosegua bene il torneo. Storie da raccontare, storie di appassionati del Texas Hold'em che credono che a questo gioco non serva spendere tanto per vincere tanto. In un mondo nuovo, io poi gioco online, quindi non sono abituato a eventi live di questo calibro. Per me è già tanto essere qua. Un capellino, una maglia griffata, un desiderio nel cuore e una certezza nella mente. È bellissimo essere qui. Un torneo davvero eccezionale, i numeri parlano chiaro. È veramente un piacere in Italia trovare un torneo con questo parterre. Tantissimi amici della Sicilia che, come me, hanno fatto un lungo viaggio. Speriamo che vada bene. Il clima è amichevole? Sì, senz'altro. Ottimo clima, ottimo staff. Comunque quindi tutti ottimi professionisti. Tre persone che stanno partecipando a un torneo che è entrato nella storia del poker grazie a titanbet.it e che soprattutto hanno avuto l'occasione di conoscere lo staff della room e apprezzare il clima friendly capace di far respirare. Uno staff che ora tifa per i suoi tre ragazzi, lieto di avergli regalato un sogno e certo che comunque gli lascerà un grande ricordo. Questo è Titanbet.